Perché mi stai aggredendo, Jeffrey? Credevo fossimo amici. Perché sono vittima del tuo mondo crudele e malvagio? Guarda le lacrime che mi coprono il viso. Sappi che ognuna di esse è un grido d'aiuto perché io ho ancora voglia di vivere. Dimmi, che cosa ti ho fatto per trasformarti in un maniaco capace di certe atrocità? Perché è successa una persona come Eddie. Ha sempre dato tanto e chiesto molto poco. Lui voleva soltanto essere se stesso. Quando hai ucciso mio fratello, tu hai ucciso mia madre e mio padre. La prego vostro onore, non permetta a quest'uomo di vedere la luce del sole fino alla sua morte. Buongiorno a vostro onore. Mi chiamo Donald Bredoft. Per la famiglia Bredoft. C'è sempre stato amore. Siamo una famiglia unita. Mia madre ha avuto cinque bellissimi figli. E poi lui ha ucciso il più piccolo della famiglia. E spero tu vada all'inferno. Amo questo mondo. Avete svolto un lavoro magnifico dal profondo del cuore. Grazie a Dio. Mi ha dato molta forza. grazie a tutti. Dio benedica l'America. Non potrò più dirgli che gli voglio tanto bene. Tu hai portato via il primo nipote di mia madre e per questo non potrò mai perdonarti. Mamma, sono morto. So che c'è un drago che ti trafigge il cuore giorno e notte per questo. Ma comunque non sono lontano. Due dita e un pollice. Vuol dire ti voglio bene nella lingua dei segni. Quando piangi, mamma, poggia una lacrima sul davanzale della tua finestra. E quando passerò la scambierò con una delle mie. E così sarò sempre con te. Due dita e un pollice. Tuo figlio Tony. Mi chiamo Rita Isbell e sono la sorella maggiore di Errol Lindsay. Ger... Comunque sia il tuo nome, Satana. Sono arrabbiata. È così che ti comporti quando sei fuori controllo. Ora non voglio che mia madre sia costretta a rivivere tutto questo. Mai, Jeffrey! Jeffrey, io ti odio! Pezzo di merda! Io ti odio! Sono fuori controllo! Non farmi incazzare, Jeffrey! Ti ammazzo, cazzo! Guardami! Guardami, mastardo! Guardami, as gonna! Guardami, descent. Yeah! Guardami, est з 예 и в coeur. Guardami, mostριaci, uscapato. Grazie.